La diagnosi delle lesioni tumorali e prenioplastiche mammarie e le difficità dell'esame, soprattutto nelle donne giovani, alle altre metodiche di screening già in uso, quali la mammografia e l'ecografia. Questa è una visita angiotermografica. Appoggi la placca della mammella di destra, quadrando su per esterno, e compaiono delle immagini appuntite da gradanti verso il capezzolo che evidenziano una normalità. Si cambia la posizione della visita ed è frontale in questo momento. Qui ha un'immagine di sospetto. Nella parte controlaterale abbiamo due zone, una interna, qui siamo in frontale, questo è il capezzolo, e qui siamo in laterale esterno della mammella di sinistra, una seconda zona, che sono dei residui tumorali per una biopsia fatta in questa paziente per un tumore di 7 cm, che ha ridotto il tumore, non l'ha tolto completamente, però si evidenzia ancora nel quadrante super esterno questa zona, qui dentro c'è un residuo tumorale, e come vedevamo prima, nel quadrante interno, nel quadrante interno c'è, qui si vede l'esito dell'intervento chirurgico di biopsia e questa è la mammella normale. In questi momenti di visita si fanno quattro foto, quattro foto e si fotografa anche la clinica, la clinica però si documenta in maniera molto chiara sia la parte della mammella controlaterale normale che quella tumorale. Il merito di avere contribuito alla messa a punto della diata G va al professor Giancarlo Montruccoli, ce lo potresti presentare? Faceva parte della Federazione Mondiale Ginecologia Ostertrice, che raduna i ginecologi di tutto il mondo. Nell'ambito dell'oncologia la senologia la dirigeva a mio padre. Quali erano le principali caratteristiche umane e professionali del professore? La semplicità, la sua forza, la preparazione e la genialità e ovviamente la competenza professionale. Lui ha inventato praticamente o è stata un'evoluzione di una vecchia tecnica, parlando di angiotermografia dinamica? Un po' tutte e due. Ci racconti in che modo? Un po' tutte e due perché è iniziato insieme a Trequara, ai francesi, a Bobigny, con la vecchia termografia a contatto, non so se avete presente, che negli anni 70-80 c'era una termografia a contatto che guardava quanto calore veniva messo dal tumore. Questa tecnica che papà ha modificato insieme al Dipartimento di Fisica e Sanitaria dell'Università di Bologna, quindi un grande contributo dell'Università di Bologna è stata di modificare, tenere gli stessi principi, quindi i cristalli liquidi microincapsulati, sono migliorati nel tempo, però la placca è sempre composta di questi cristalli liquidi microincapsulati e di modificare e rendere ancora più performante la sonda, quindi la placca. Quindi praticamente dalla vecchia termografia a contatto ha capito la bontà, tutte le varie potenzialità che aveva questa tecnica, che non venivano espresse con le vecchie placche e che con queste vengono assolutamente messe in risalto e vengono utilizzate in maniera positiva. Quindi qual era il limite della vecchia termografia? Intanto troppi falsi positivi, troppi errori. Un altro limite era che dovevi guardare i colori, dovevi vedere un gradiente termico, c'erano troppe variabili, se lo studio era freddo o era caldo poteva esserci delle variabili molto importanti. Qui non studia il calore emesso dal tumore, ma studia il calore emesso dalla microcircolazione, dalla vascularizzazione normale della ghiandola mammaria. Quindi quando io studio una circolazione normale, che poi rimane nel tempo uguale nell'arco della vita della donna, quando c'è un cambiamento di questa microcircolazione normale, allora me ne accorgo molto bene. Quindi è un'altra filosofia, un'altra, proprio, tutta un'altra interpretazione semiotica. Come sono stati accolti questi studi dalla comunità scientifica? Beh, molto bene, perché abbiamo anche fatto dei convegni, tra i quali uno, mi ricordo, con grande affetto, direi, perché è stata un'idea molto importante, di mio parere, di radunare dieci colleghi, dieci, dodici colleghi a Roma. Abbiamo cercato di capire i primi stadi della carcinogenesi della mammella, cioè il famoso T0 della stadiazione TNM, quando non c'è ancora il tumore, ma cercare di capire il passaggio dal precanceroso al tumorale, come avviene, perché questo è lo studio principale. A che conclusioni siete arrivati? Le conclusioni sono preliminari, perché tuttora questa sicurezza dello switch non l'abbiamo ancora codificato, però ci sono tanti studi che hanno portato a dire che la parte, sono due i momenti principali, uno, una modificazione genetica, quindi un gene che non protegge l'insorgenza del tumore della mammella e questo poi nell'ambito di alcune famiglie è trasmesso dalla mamma alla figlia e quindi può essere uno dei fattori scatenati. L'altra è la formazione, che poi è sempre in contemporanea anche col gene, la formazione di nuovi vasi, quindi la famosa neongiogenesi di Folkman che in tanti anni abbiamo studiato, sempre in maniera più approfondita, cercando appunto di capire anche in che modo inizia questa formazione di nuovi vasi e abbiamo capito appunto che c'è una proteina che si chiama VIGF, Vascular Endotelia Growth Factor, che richiama sangue, questa proteina viene proprio messa fuori dalla cellula che vuol diventare tumorale e richiama sangue chiamando la formazione di nuovi vasi. La tecnologia che andremo a descrivere riesce clinicamente a vedere la formazione di questi nuovi vasi perché se noi il cristallo liquido confrontiamo nel tempo, rimane sempre uguale, quando c'è una formazione di nuovi vasi cambia. Già questo è un primo segnale di sospetto per noi. Il nostro piccolo contributo è nell'aver dimostrato che anche in pre-invasivo, cioè con dei piccoli prelievi non tumorali, noi riusciamo a avere e misurare questa proteina che è nella stessa quantità dell'invasivo, del cancro. Quindi i nostri prelievi istologici di lesioni pretumorali, il dubbio era questo, abbiamo tolto delle lesioni pretumorali o delle lesioni benigne. Quindi per studiare e cercare di capire questo abbiamo mandato tutte le lesioni pretumorali da un collega, biologo molecolare in Portogallo, Fernando Schmidt, che dirige la biologia molecolare dell'ospedale di Porto, che è veramente molto bravo, e ha studiato la VGF, quindi il vascular deterioro factor, e l'angiogenesi in periferia delle nostre lesioni. E ha visto che la quantità di VGF e di angiogenesi è la stessa del cancro. In questa diapositiva avete visto l'ingresso di progressivo di più immagini istologiche e che sono le basi scientifiche di questa tecnologia, in quanto visualizza la progressione dell'angiogenesi. Nella normalità, vedete, sono vasi ben codificati, in quanto vascularizzano normalmente la ghiandola mammaria. Nell'iperplasia c'è un aumento del numero di vasi e nell'in situ, guardate quanto aumento, o nell'invasività c'è un aumento e disorganizzazione un pochino di tutta la trama. Se noi vediamo sempre questa immagine e la fotografiamo e la compariamo con l'immagine precedente, ci rendiamo conto che già da una modificazione già dal normale all'iperplasia o l'in situ è visibile, è ben visibile, oppure quando trovi per la prima volta un'immagine iperplastica o un in situ o un'invasiva lo vedi molto bene perché è differente dalla normalità della prima immagine. Ci può essere un'evoluzione verso l'invasività con questo schema, quindi dal normale c'è l'iperplasia, l'iperplasia tipica, il carcinoma dotale in situ che è una chiusura praticamente del dotto senza però effrazione della membrana basale, il carcinoma dotale in situ con microinvasione, quindi questi sono i primi stati di invasività, quindi il primo momento che si rompe la membrana basale è che le cellule escono dalla membrana basale per diventare microinvasive, oppure l'invasività franca con una effrazione della membrana basale e le cellule che escono dalla membrana stessa entrano nei vasi e quindi possono metastatizzare a distanza. Questo è un po' un dogma degli anatomopatologi che danno un'evoluzione in questo senso, però può essere più o meno lenta, più o meno rapida e si possono saltare determinati momenti di questa scaletta e passare da un'iperplasia tipica a un carcinoma dotale invasivo in breve tempo. Generalmente dal normale al carcinoma dotale invasivo ci possono passare anche vari anni, 7-10 anni. Siamo noi purtroppo che con le tecniche diagnostiche che abbiamo in possesso in questo momento e che ce ne rendiamo conto solo nell'ultimo periodo. Praticamente il nostro scopo è quello di cercare di evitare che le cellule, le prime cellule che passano dalla membrana basale quindi da un tumore in situ diventano microinvasivo riescano a sfuggire e quindi avere la possibilità di una potenziale metastatizzazione. Ovviamente la cosa più importante è diagnosticare il cancro della mammella. L'immagine che noi otteniamo, questo paziente era venuto senza mammografie perché le mammografie dell'anno prima erano normali, questa immagine che abbiamo visto adesso appuntita da garante verso il capezzolo è normale. Dalla parte di sinistra l'immagine è ben diversa. Quindi c'è la presenza di più formazioni che ti dicono i tre vasi che ti dicono attenzione c'è una lesione che è piccola ma da studiare. Il tumore della mammella è di difficile diagnosi. Abbiamo varie tecnologie quindi la mammografia, l'ecografia, la risonanza magnetica. Ogni tecnica, ogni tecnologia ci dice qualcosa di diverso, ci dice qualcosa di più. Secondo me unendo le tecniche riusciamo ad aumentare la sensibilità della diagnosi. Quindi il collega che dopo aver provato la tecnica si rende conto che non va contro nessuna delle tecniche che noi utilizziamo regolarmente in senologia e che ti può dire delle informazioni di più secondo me è un po' l'anello che manca nella senologia. Dobbiamo pensare di mettere al centro il paziente perché se il nostro scopo è quello reale di dare una diagnosi sempre migliore al paziente, se abbiamo 10.000 tecniche dobbiamo usare tutte 10.000 se c'è possibile. La verità è solo l'istologia quindi noi dobbiamo selezionare i pazienti da portare alla chirurgia. Accanto a queste tecniche strumentali ci si può mettere anche l'autopalpazione? Ci sono varie scuole di pensiero sull'autopalpazione. Sicuramente può essere utile informare il paziente perché io ho visto dei pazienti che arrivano qua con dei tumori ulcerati paziente non informato è molto pericoloso. C'è da dire anche che l'autopalpazione può essere utile sicuramente è utile però può dare anche una falsa sicurezza. Questa valutazione diagnostica è una valutazione diagnostica a basso costo. Perché? Se noi vogliamo mettere sui costi ha una serie di vantaggi perché intanto è una foto il costo è limitato all'acquisizione della parecchiatura la parecchiatura è come un ecografo costa meno che un ecografo quindi è effettivamente di basso costo. La prima cosa non ci sono è anche ecologica tra virgolette perché non hai liquidi non è radiologica non emette raggi quindi il secondo vantaggio è anche questo può essere fatta non solo dal radiologo ma dal ginecologo dal povero oncologo dal medico di base dal chirurgo anche in preoperatoria io prima di operare faccio sempre una conferma con la placca in solo operatoria per marcare per marcare bene la zona da togliere l'altra cosa che nessuno tiene conto è che se riesci a togliere delle lesioni per cancerose e quindi non invasive in quel caso lì a seconda poi della dimensione dell'istologia della biologia è indicata la chemioterapia è indicata la radioterapia è indicato un intervento grosso allora se parlando solo di costi come dicevamo prima se noi riusciamo a togliere un tumore nel momento prima della trasformazione abbiamo un vantaggio in salute economica pubblica notevole perché non dobbiamo fare la chemioterapia non dobbiamo fare la radioterapia e l'intervento chirurgico è più piccolo si può fare a tutte le età tutte le età sì questo è importante perché la diagnosi con la mammografia è molto buona ci dice delle cose diverse però è utile dai 40 anni in su adesso si sta cercando anche di rubare qualche anno ma è difficile a volte in mammelle dense giovanili quindi magari a 45 hanno mammella con molti estrogeni e hai difficoltà a vedere qualcosa sono i famosi B-RADS-3 cioè quelli in una via di mezzo che il radiologo fa fatica quindi per noi che la paziente abbia 18 anni o che ne abbia 70-80 non cambia hai detto che non si usano raggi non si usano raggi quindi si può fare anche in gravidanza anche in gravidanza lo puoi fare tutti i giorni quindi è ripetibile con una frequenza spaventosa la puoi fare in qualsiasi condizione nell'ambito del ciclo mestruale non c'è nessun problema anche se una le protesi per esempio non dà assolutamente problemi sarebbe bene però magari negli interventi di chirurgia plastica io lavoro con dei chirurghi estetici di farla prima perché se una mastopessi per esempio il chirurgo plastico toglie e butta via tra virgolette rimuove della ghiandola allora se noi identifichiamo una ghiandola magari più attiva segnaliamo al chirurgo quale parte serve da togliere ed è anche più utile fare questo intervento di chirurgia estetica oppure la protesi non sarebbe sempre meglio avere prima un'immagine prima e un'immagine dopo la chirurgia anche importante nei casi di stimolazione per fecondazione assistita perché ci sono alcuni pazienti che possono sopportare altri che hanno siccome sono pazienti giovani che hanno un rischio maggiore di fare un tumore della mammella nessuno considera questo oppure nelle pazienti che alcuni colleghi ginecologi consigliano la terapia sostitutiva della menopausa il cerotto quindi anche nel cerotto un rischio ed è stato dimostrato da varie pubblicazioni internazionali un rischio c'è allora puoi selezionare per bene le pazienti che possono utilizzare la terapia sostitutiva con menopausa con sicurezza e quelle che bisogna avere un attimo più di accortezza un'applicazione importante infatti è stata messa la corona sullo screening in quanto è di rapida esecuzione 5-6 minuti da una visita angiotermografica molto precisa e la costanza dell'immagine ci porta a dire non c'è assolutamente patologia non c'è problema sono stati presi a caso dall'archivio delle immagini molto vecchie con un follow up di 16 anni 20 anni 30 anni e per dimostrare appunto la costanza dell'immagine e per dimostrare appunto che l'immagine resta uguale in questo caso per esempio 16 anni l'immagine resta uguale nell'arco della vita della donna o 20 anni l'immagine è assolutamente costante 25 anni 34 anni dopo 15 mesi cambia in questo caso questa rimane uguale scompare la cromiale scompare questo vaso e compare questa linea di corrente che ti va a vascularizzare 12 cm di linea di corrente e va a vascularizzare un millimetro di cancro lobulare in situ oppure la presenza di questo nuovo vaso che prima non c'era è una lesione di carcinoma in situ oppure l'immagine che resta sempre uguale cambia ed è un tumore misto lobulare duttare in situ questa azione di screening non la si potrebbe affidare anche ai medici di base può essere un primo screening di base per poi selezionare le pazienti che devono magari fare andare dallo specialista oppure entrare nel controllo in follow up questo assolutamente è stata sono state già delle considerazioni fatte in altri paesi in altri paesi dove magari la popolazione è sparsa in posti più sperduti in villaggi più sperduti mi hanno chiesto appunto di utilizzare questa tecnologia proprio per questo tipo di in quali paesi? in Russia in Kazakistan in Brasile pensavano in Australia anche di fare dei camion siccome c'è lo spazio è molto grande di andare loro dal paziente quindi questa tecnologia è un ecografo per esempio poteva essere molto utile per fare uno screening di primo livello come lo avevano chiamato loro nei paesi con gravi difficoltà economiche come può essere il sud del mondo questa strumentazione iniziano già nel Benin questa tecnologia c'è in Sudafrica in Guatemala mi hanno chiesto di andare a insegnare nel Camerun insomma c'è un interesse anche perché questo interesse è dato da un insegnamento che ho a Ginevra all'organizzazione Mondiale della Sanità sono già stato 3-4 anni in marzo nell'ambito di un corso di salute riproduttiva a insegnare questa tecnica ai miei colleghi ginecologi che sono in formazione politico-sanitaria quindi arrivano nel loro paese e poi mi invitano il Ministro di Sanità invita e spiego la tecnica L'Organizzazione Mondiale della Sanità come si pone dinanzi a questa metodica diagnostica? Molto interessata molto interessata già nel 2006 sono stato a Ginevra a presentare la tecnica oltre che ho presentato mi hanno chiesto una serie di casi clinici mi hanno voluto delle conferme importanti che ho sempre dato e quindi mi hanno incoraggiato a continuare nella divulgazione e tramite una fondazione la Ginevra Foundation for Medical Education Research mi hanno incaricato di insegnare la sinologia e questa tecnica nel mondo Nell'ambito del tumore della mammella ci sono due tipi questa diapositiva mostra la differenza fra il carcinoma dottale infiltrante che è la forma più comune nel tumore della mammella e anche quella più visibile con le tecniche diagnostiche in nostro possesso quindi con la mammografia in quanto da dei segni radiologici evidenti quali le microcalcificazioni che sono praticamente dei depositi di calcio dentro i dotti in quanto la mammella è composta da uno strato di grasso di ghiandola questa ghiandola fate finta che sono una arborizzazione di tanti rami che terminano nel capezzolo e che vengono stimolati con l'assuzione del bambino e la produzione di prolattina nel momento dell'allattamento questi dotti moltiplicano le cellule e producono il latte e il latte esce dal capezzolo dal punto di vista questo siamo nella fisiologia dal punto di vista della patologia il tumore può nascere generalmente può nascere un po' dappertutto ma generalmente nasce nel dotto e quindi abbiamo il carcinoma dottale infiltrante o nel lobulo che è la fine del dotto e quindi è un carcinoma lobulare infiltrante la differenza fra questi due è appunto l'insorgenza del tumore ma anche la come si evidenzia il dottale è quello più frequente ed è quello che si vede meglio con le tecniche radiologiche in nostro possesso il lobulare è un tumore che si vede con tecniche che studiano più che altro la vascularizzazione quindi con l'angiotermografia si vede bene e anche un po' con la risonanza magnetica l'obulare infiltrante generalmente è multifocale e molto spesso anche bilaterale quindi bisogna tenere conto di tutte e due le mammelle ed è una percentuale molto più bassa del dottale infiltrante hanno in comune la richiesta di vascularizzazione della neogiogenesi tutte e due che serve per progredire quindi che la mammografia riesca a vedere meglio il dottale questa tecnica che studia la microcircolazione li vede in ugual misura tutte e due dal momento che c'è una microinvasione c'è una effrazione una rottura della membrana basale e conseguente invasione vascolare e linfatica quindi quando c'è un'invasione della membrana basale è invasivo quindi vuol dire che diventa ancora più pericoloso è pericoloso prima togli quindi in situ togli un qualcosa ancora tra virgolette che alcuni dicono benigno quindi c'è una netta distinzione tra se riesci a trovare un tumore un'iperplasia atipica o un tumore in situ questa paziente è una signora anziana di oltre 80 anni che ha una tumore della mammella della mammella di sinistra quindi controlaterale qui abbiamo anche l'evidenza mammografica che è assolutamente negativa per questa parte della mammella esterna siamo frontale si vede una linea di corrente molto poco rappresentata arriviamo nella mammella di sinistra a livello frontale e comincia a vedersi già la differenza con la mammella di destra e confermata anche con varie formazioni tumorali in questa zona qui siamo nella parte esterna della mammella di sinistra dove si evidenzia molto bene la formazione di un vari varie zone tumorali che sono ben evidenzate anche dalla mammografia chi ti dice che togliendo una iperplasia tipica hai tolto una lesione benigna o una lesione precancerosa vera allora bisogna studiare tutti i fattori biologici che portano da una lesione benigna a diventare una lesione tumorale invasiva e sono l'angiogenesi e la proteina al VGF per esempio quindi abbiamo pubblicato su Oncology Report che è un'ottima rivista tutta la nostra casistica di lesioni precancerose che noi chiamiamo giustamente precancerose perché abbiamo visto che il VGF e l'angiogenesi in periferia di queste lesioni è la stessa del cancro sono stati fatti degli studi insieme al Dipartimento di fisica sanitaria con dei fantocci come chiamano i fisici sanitari in questo caso una placca di cera c'era dell'acqua tiepida che passava in questi tubicini di acqua tiepida azzurra e veniva infossato un pochino questo tubicino nella placca di cera l'immagine che noi abbiamo ottenuto è un'immagine a punta questo è molto importante nella semiotica perché la vascularizzazione della ghiandola mammaria è composta da una mammaria esterna questa mammella di sinistra mammaria esterna acormiale mammaria interna e sottoscapolare o perforante posteriore questi vasi entrano nella ghiandola mammaria che è tridimensionale quindi entrano si ramificano si ramificano sempre in maniera più piccola si ramificano dando vasi sempre molto più piccoli per vascularizzare il loro territorio di competenza quindi entrano dentro entrano centripetre verso il capezzolo ramificandosi sempre di più e cosa succede quando noi appoggiamo una lastra angiotermografica alla mammella e registriamo la trasduzione del calore di questi vasi succede che questo vaso perde di intensità in quanto da sempre vasi sempre più piccoli perdendo di intensità l'immagine che noi otteniamo è un'immagine che va a scomparire è un'immagine a punta quindi la normalità è l'immagine a punta quindi questa è la mammaria esterna questa è la cromiale sono linee di correnti normali quando noi vediamo queste linee di correnti siamo tranquilli e diciamo bene signora può tornare e ci vediamo nel tempo quando c'è un richiamo di sangue in una zona della mammella che non è normale quindi qualcosa che nel tempo vorrà fare un'attività tumorale l'immagine non è più a punta ma ha delle terminazioni codificate appunto in sospette in questo caso quindi le terminazioni può essere terminazioni a palla oppure non a punta oppure terminazioni di questo tipo con una linea di corrente che non è appuntita oppure in questo caso uguale oppure due vasi che vanno a dirti attenzione in questa zona c'è qualcosa di tumorale o qualcosa che vuole fare un tumore e questa immagine qui è uguale quindi sono due vasi che vanno a dire attenzione in questa zona c'è qualcosa che non va bene il cancro è molto più facile in quanto dà delle immagini molto più forti sono tre vasi che vanno a nutrire una lesione tumorale o la stella maligna quello che chiamavo ho sempre chiamato stella maligna ma è un incrocio di più vasi e il tumore è sotto questa formazione oppure una disorganizzazione di tutti i peduncoli che vanno a vascularizzare una zona della mammella con anche il capezzolo caldo in questo caso oppure uguale disorganizzazione di tutti i peduncoli con un richiamo di sangue da vari territori a livello di prevenzione il dieta G può sostituire ogni altra valutazione diagnostica questa è una tecnica che non sostituisce le altre è un aiuto molto importante è una tecnica che si integra bene con le altre che forse può essere la tecnica che guida anche le altre perché se c'è un'attività vascolare anomala segnalo al collega per esempio il radiologo lo scopo è essere più sicuro possibile trovare delle lesioni più piccole possibili se ci riesco delle lesioni che non sono ancora invasive o non sono ancora palpabili perché questa tecnica me lo può dire questa tecnica può essere utilizzata anche per altre applicazioni al di fuori della mammella al rizzoli stanno studiando una diagnosi differenziale fra lipoma e liposarcoma infatti lipoma che è grasso ed è una formazione benigna di grasso non marca non ha nessuna attività in quanto è benigna e vedete qui le piombe del fianco lipomascellare non c'è una non marca praticamente niente e invece 5 mm di liposarcoma hanno un'immagine molto molto forte altre applicazioni sono date dal melanoma che dà sempre un'immagine caratteristica di quadrifoglio oppure dal carcinoma basocellulare che dà un'immagine caratteristica di tipo hotspot chiaro di 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 l'ambino di 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 Grazie a tutti.